oggi voglio far godere red ronny perché faccio un video parlo di madonna parlo di numerologia parlo di conoscenza di madonna luis veronica ciccone che compie gli anni oggi 16 agosto 1958 a livello numerologico è un 16 karma 38 significa che è un 7 karma 2 una persona molto determinata quindi un soldato metaforicamente parlando dove voglio arrivare arrivo e una persona che attraverso la sofferenza alla sua crescita perché nasce in un giorno 7 di sacrificio il suo nome luis veronica ciccone frequenza 82 indica fa e di sua vuol dire che nella vita una volta che ha creato qualcosa poi la distrugge la ricrea la distrugge la di crea è una continua tempesta ma andiamo avanti il nome madonna non esiste perché il nome madonna è il nome della mamma la mamma che si chiama in questo caso madonna luis la mamma che però madonna ha perso l'età di cinque anni e l'ha persa per un problema al seno poverina ma una cosa molto importante è questa dove lei stessa madonna dice ricordo che mi sentivo più forte di lei di mia madre ero così piccola eppure sembrava che fosse lei la bambina penso che questo fatto mi abbia fatto crescere più velocemente una madonna che ha perso la mamma all'età di cinque anni quindi una donna che perde l'età di cinque anni la mamma e che gli prende il nome quindi una bambina che prende l'età di cinque anni la mamma seno conflitto di svalutazione nei confronti di non si sente una madre adeguata e in questo caso questa ferita purtroppo l'ha portata ad andarsene io sono dell'avviso che la nonna che il problema sta nella nonna di madonna nei confronti della mamma e la mamma ha avuto questo vuoto questo disagio dove sicuramente madonna ha avuto una grande sofferenza ma parliamo di una donna quindi che non è lei perché secondo la numerologia quando tu porti un cognome e poi a quel nome e cognome mi vai a creare un nickname in realtà non esiste più veronica ciccone ma esiste madonna ma che in realtà madonna o meglio il nome della madre è morta e non c'è più allora c'è un collegamento c'è un legamento c'è un collegamento che è anche abbastanza particolare io reputo che questa donna sia una donna sicuramente come tante donne con dei problemi non risolti ma difficilissimi da comprendere perché stiamo parlando di energia allo stato puro il fatto stesso che lei oggi continua a toccarsi il viso o a farsi giovane farsi bella è in realtà che la sua energia deve fare sì che lei sia proprio una donna di 30 anni 30 anni chi è 30 anni l'età della mamma che è morta 30 anni che era bellissima che era giovanissima che era su una bara che era meravigliosamente bella pertanto l'inconscio di madonna deve essere giovane le persone che criticano madonna dovrebbero pensare i cavoli loro una persona si comporta in base ai dati che è in possesso e alla conoscenza che è in possesso pertanto se madonna mi dice alberto faccio bene a fare queste operazioni benissimo in base ai dati alla conoscenza che è in possesso secondo me magari dovresti lavorare su quella svalutazione che aveva tua mamma ma che in realtà parte dalla nonna quindi dalla nonna materna e lì c'è il vuoto quel vuoto è andato a cadere alla mamma e la bambina che in questo caso era una bambina fortissima ha reagito in un modo molto forte ed è legato allo spirito di sopravvivenza però in questo momento diciamo che madonna non vive nel senso non vive come identità come luis veronica ma vive come stato simbol pertanto deve prendere l'energia della mamma pertanto deve dimostrare sempre alla mamma che non solo lei mantiene la famiglia che non solo lei mantiene tutto ma che lei è capace di fare qualsiasi cosa per amore della mamma quindi proviamo a immaginare questa bambina quanto amore potesse avere per la sua mamma immenso 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 ed immenso detto questo sicuramente questo è un video molto veloce ti fa capire che cos'è la conoscenza e ti fa capire che quando una persona mi va a creare un nickname i nickname sono delle cose bellissime ma non dobbiamo dimenticarci chi siamo noi perché se tu ti chiami veronica ciccone o veronica luiz ciccone e decidi di chiamarti madonna e prendi il nome di una mamma defunta caspita non solo mi vai a risvegliare quelle frequenze ma soprattutto mi vai anche è un po macraba la cosa no e un'altra cosa importante non sei più tu che vivi come centro come nucleo ma come fonte di energia quindi sei ispirata anche da forze esterne ok comunque non è così facile fare un video così su madonna spero di averlo fatto capire nel meglio possibile sicuramente i nickname per i cantanti i nickname per gli attori sono delle cose molto pericolose perché non sanno gestirli bisogna saperli gestire bisogna capire madonna o luiz veronica ciccone se tu abbandoni questa identità il tuo dna prenderà forma sotto questo punto di vista però mi vai a creare una tempesta nel tuo sangue nel tuo dna perché per la nostra energia noi siamo una frequenza noi siamo un suono noi siamo una vibrazione pertanto la vibrazione suono di luiz veronica ciccone non esiste più e invece gli metto una vibrazione di madonna che in realtà è morta quando avevi cinque anni che è la mamma che ha subito un conflitto di svalutazione e il tuo cervello comincia a schizzare sempre perché deve dimostrare alla mamma che lei ce la fa e che lei è bravissima e che lei è la bambina migliore del mondo e quindi la donna migliore del mondo perché poi l'energia dialoga in un modo associativo ok non è un video per tutti ma è un video bellissimo che fa capire comprendere e soprattutto ti porti in un nuovo mondo che è quello della conoscenza la conoscenza della numerologia è potentissima se associata alla conoscenza della geneologia alla conoscenza della teoria del precedente della ciclicità della legge causa effetto della conoscenza vera dell'essere umano buona giornata e tanti auguri a madonna che tra l'altro in questo momento dovrebbe trovarsi in sicilia a noto in quanto lei ha origini italiane dal padre italiano ciao